1979, Francis Ford Coppola creò un capolavoro del cinema mondiale. Dopo 22 anni, torna Apocalypse Now, Redux, con nuove sconvolgenti immagini, mai viste prima d'ora. Tutti ottengono quello che cercano. Io volevo una missione e per scontare i miei peccati me ne assegnarono una. La sua missione è risalire il fiume Nang, individuare la pista del colonnello Kursan Nung Mumba e porre termine al suo comando. Porre termine con estrema determinazione. Può risalire quel fiume fin dove vuole, capitano! Se io dico che fare il surf qui è sicuro, capitano, fare il surf qui è sicuro! Amo l'odore del napalm alla mattina. Ha il profumo della vittoria. Dobbiamo risalire il fiume per 75 miglia. Quella è la Cambogia, capitano. Arrivano! Tu pensa a portarci laggiù! Chi è l'ufficiale in comando qui? Non sei tu! Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Lawrence Fishburne, Dennis Hopper e Harrison Ford. Forse avete già navigato questo fiume, ma di certo non avete mai visto niente di simile. Sequenze inedite. Un film che ha fatto epoca. Ritorna a un culto. Ridax, sono un soldato. Tu sei solo un galoppino. Mandato per i sospesi del droghiere. L'orrore. L'orrore. L' sowie per la sua cucina. E' un culto. Chun. C'è uses più un caloppino.